Sale la febbre da Giro d'Italia, tra poche ore Prato e la Val Bisenzio saranno attraversate dalla Corsa Rosa, un evento amatissimo che mancava da tre anni e che grazie a una modifica del tracciato chiesta e ottenuta dal Comune di Prato valorizzerà anche di più la città e le sue bellezze. La seconda tappa del 102esimo Giro d'Italia, da Bologna a Fucecchio, dovrebbe transitare nel territorio provinciale attorno alle 14. Dopo una velocissima discesa lungo la SR325, addobbata a festa da Montepiano fino alla Madonna della Tosse per l'occasione, Nibali e gli altri campioni delle due ruote arriveranno a Prato e attraverso Viale Galilei e Via Sant'Antonio entreranno nel suo cuore pulsante, piazza mercatale che dalle 12 ospiterà anche la Carovana Rosa per la distribuzione di gadget di ogni tipo. Da qui la corsa proseguirà in piazza San Marco, in via Ferrucci, in viale della Repubblica, in via Catani e infine in viale Marconi, direzione Campi Bisenzio. Una festa per la città perché l'icilismo è uno degli sport più seguiti, gli appassionati ce lo chiedevano da tanto tempo, c'è fame di cicilismo, domani passa il giro, l'evento più importante, fra l'altro una tappa anche significativa perché è la seconda. Insomma, io penso che davvero tutta la città abbia la possibilità, lungo il percorso, di vedere questi straordinari atleti. Secondo me è un ottimo motivo in più per veicolare Prato, per veicolare la bellezza della nostra città. Attenzione alla viabilità. Le strade interessate dal passaggio del giro chiuderanno al traffico con divieto di sosta tra le 12 e un quarto e le 14 e 30. Oltre 120 minuti in cui la città sarà divisa in due. Per passare da una zona all'altra bisogna raggiungere il Ponte Lama e il quartiere del Rosi. L'abitato è di Santa Lucia, è l'unica zona di Prato dove non sarà possibile circolare in nessun modo durante questa finestra oraria. In Val Bisenzio il trasporto pubblico è garantito da Cappi, il servizio di bus navetta gratuito dalle 9 alle 11.45 e dalle 15 alle 18.30, con tre pulmini da 28 posti ciascuno. Attenzione alla viabilità anche sul Montalbano al confine tra Carmignano e Capraia al limite, perché a Castra i ciclisti provenienti dall'Empolese affronteranno il Gran Premio della Montagna di terza categoria prima di dirigersi verso Vinci e San Baronto. I disagi comunque saranno limitati, dato che è domenica e la fascia oraria del transito rosa coincide con l'ora di pranzo e verranno sicuramente compensati dall'emozione che questa storica manifestazione trasmette a grandi e piccini ogni anno di più. Per chi tifa il sindaco? Per tutti, il sindaco tifa per gli italiani, io mi auguro che ci sia un vincitore italiano e questa è la cosa che più mi interessa.